Inizia a diffondersi l'utilizzo della colonnina di ricarica per auto elettriche installata nei giorni scorsi dal comune di Salerno con Salerno Mobilità e Salerno Energia in piazza della Concordia con l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e non inquinante. Parcheggio e ricarica gratuita oltre ad un abbonamento specifico al costo di soli 10 euro all'anno per poter utilizzare liberamente ogni area di sosta nel capoluogo ed entrare nelle ZTL. Ma non basta, da domani il comune di Salerno e Salerno Mobilità rilanceranno offrendo anche agli utilizzatori delle due ruote la possibilità di ricaricare gratuitamente. Sempre in piazza della Concordia infatti a partire da domani sarà attiva una postazione di carica destinata alle bici elettriche che potranno essere lasciate nell'area di sosta al coperto e al sicuro. La nuova iniziativa, sollecitata dagli amanti delle due ruote, consentirà di poter allungare l'autonomia di questi mezzi, consentendo di poter raggiungere il centro di Salerno anche da distanze maggiori. Sempre in quest'ottica, inoltre in attesa dell'installazione di nuove colonnine in giro per il capoluogo, nei prossimi mesi dovrebbe partire un servizio di bike sharing, cioè bici a noleggio. L'assessore alla mobilità Cascone sta valutando i costi del progetto che, a dire il vero, non sono minimi. L'intenzione è quella di mettere a disposizione un parco di bici tradizionali e a pedalata assistita con un'apposita card magnetica che consentirà di prelevare e lasciare il mezzo in vari punti della città, potendole parcheggiare grazie ad un apposito dispositivo di sicurezza. Sullo sfondo anche il car sharing con una cinquantina di auto elettriche che saranno utilizzabili sulla direttrice Università e Costiera Amalfitana, ma non solo. E nei prossimi mesi la realizzazione di un distributore di carburante comunale a prezzi calmierati nell'area dello Stadio Arechi per promuovere il parcheggio d'interscambio e l'accesso al centro cittadino con navette metropolitana. Lunedì, tra l'altro, sarà effettuato una sorta di viaggio dimostrativo sul nuovo sistema di mobilità su ferro, destinato finalmente a vedere la luce. Dopo aver risolto i problemi con la Regione Campania, il servizio dovrebbe entrare in funzione per il mese di novembre.